ciao a tutti ragazzi buon natale destini guarda che saremmo nel 2016 a buon 2016 a tutti non sono solo come avete capito quest'oggi sono con presentatevi come perché è a class e dammelo possibili future compagni di team non lo so che si vedrà in un giorno futuro allora oggi se passi a magic magari magic ci posso giocare anche le carte come ho fatto vedere vabbè prima che mi mettono in dislike per questo gioca entrambi quindi state tranquilli comunque si oggi faremo finalmente qualcosa di diverso dal solito apertura di quattro pacchetti trovati ieri in un negozio di rpg così cosa al mente poi la storia il motivo per cui siamo andati è molto lungo cioè da che avrà nell'origine del tempo beh facendo con l'apertura del primo allora praticamente doveva stavo parlando in dungeons e dragons così detto ma se giocassimo a dungeons e dragons io non ho mai giocato alla fine per parlare abbiamo comprato un manuale video e sono impedito da aprire il primo ragazzi da quanto tempo non aprire un pacchetto vediamo così ecco una carta rara cos'è sta cosa una super ah vabbè mo si trova una super ogni pacchetto vabbè metto i super qua e common qui allora il mio canale è molto famoso per una cosa perché fa schifo nelle aperture sfigatissimo sono forse lo youtuber più sfigato del mondo ma io mi accontento giusto di un infiniti che la carta forse più grossa infatti troverò solo super questo cazzo di cosa che sto qua vabbè non sto vedendo manco le carte io non posso schiare ex bene ma dai trovo solo le super che schifo è una legge fossero due infiniti aspetta che ti infondo un po' di fortuna guardate che manoni mi comprato vai vai ce lo metto pure io sì ma io sono sfigato sono depresso Alberto sono depresso perché adesso dai destino ma che schifo ma dai ma cos'è abbo forse mondo una rara vabbè apertura penso ne faremo altre cioè dopo ho visto ste bustini in quel negozio mi sono un po' sbaglieremo tutto può essere si si bene ho trovato ste carte non ho letto manco che su avete inquadra e niente se volete altre aperture lasciate commento un mi piace un saluto da questi due esteri ciao ragazzotti e allora mettete un mi piace bastardo di un tocco cosa hai sentito